Reggiana batte Pescara 2-0, subito Pescara con questo 11, fuori delle monache Chiarella-Memuscia in grosso, c'è il rietro di Derisio a centrocampo, poi in attacco Rauti e Dursi a supporto di Ferrari, c'è Kenzita, l'altra novità dell'11 base schierato dal tecnico Gaetano Oterina, Reggiana ha diverse assezze soprattutto in difesa, il rietro di Cremonesi, davanti Rosafio alle spalle di Zamparo, 3-5-1-1, il sistema di gioco disegnato dal tecnico Aimo Diana, Reggiana che viene da due pareggi consecutivi, data in lieve flessione il Pescara invece ha inanellato 6 vittorie e 3 pareggi, non perde dallo scorso 21 novembre 2-1 sul campo del Ponte Nera ma inizia subito pressando con grande intensità la squadra di casa, c'è il recupero palla e poi l'invito di Rosafio per Zamparo, la deviazione, l'intervento risolutivo di Drudi che va a chiudere la traiettoria, dunque parte subito forte la squadra Granata, la squadra allenata da Aimo Diana, rivediamo l'azione che abbiamo commentato precedentemente, siamo alla settimo minuto e c'è la prima svolta del match con il rigore provocato da Anzita che non accompagna l'esterno destro Guglielmotti, Guglielmotti sfonda in area, c'è Ijanes in copertura, imprudente in Zita che tocca proprio il piede di Guglielmotti, sarà il light motive del primo tempo perché Guglielmotti davvero è devastante su quella fascia, sul punto di battuta, Zamparo spiazza il portiere Sorrentino 1-0 Reggiana, tredicesimo centro in questa stagione per l'attaccante classe 1994, sarà il grande protagonista della partita, ripetiamo il rigore trasformato da Luca Zamparo, Zamparo che lo scorso anno non aveva segnato in Serie B, due anni fa sette gol da gennaio a giugno nella promozione della Reggiana di Albini nella finalissima col Bari di Livarini e poi l'anno precedente 21 gol in Serie D, la promozione incide la squadra emiliana, qui ci riprova ancora la Reggiana tra le linee a Libertà, appunto Schaudone, il suo destro viene respinto dalla portiere Sorrentino e poi la prima munizione combinata a Zita in ritardo su Guglielmotti, cartellino giallo estratto dal direttore di gara Gualtieri di Asti, eccolo qui Zita in grande difficoltà in questa partita dell'uno contro uno con Guglielmotti classe 94 ex Renate, era a Renate appunto lo scorso anno con il tecnico della Reggiana Aimo Diana, prova il pescara ad impensierire il portiere Venturi ma qui tra l'altro viene fischiato anche fuorigioco, o meglio fallo in attacco contro il pescara, il tentativo di Drudi in acrobazia il pescara non concluderà mai verso la porta emiliana, il primo tempo solo un tiro sporcato da un giocatore della squadra di casa da parte di Deriso e poi ancora Reggiana siamo al 52esimo, il destro sempre di Zamparo che viene ispirato da Rosafio gran tocco in profondità, la grande parata dobbiamo dire di Sorrentino, parata tutt'altro che banale siamo difensori del pescara classe 2002, siamo al 69esimo, viene praticamente servito liberissimo all'altezza dei 16 metri, Radrezza, gran sinistro, la palla termina di un soffio al lato rispetto al palo sinistro da porta difesa da Sorrentino, rivediamo ancora quest'azione con il cross basso di Contessa tutto solo, Radrezza, ha aperto forse troppo il compasso però è stato sfortunato e qui la grande opportunità per il pescara, l'unica creata in questa partita colpo di tacco di Clemenza, invito basso di Gerardi e sulla linea di porta salvifico l'intervento di Zamparo su Cernigoi che aveva rilevato, rimpiazzato in corso d'opera Ferrari e questa l'unica vera occasione da gol creata dai biancazzurri, secondo giallo qualche minuto più tardi alla 74esimo giù di lì di Nzita, il fallo di Nzita, il secondo giallo per un fallo commesso ai danni di Zamparo evitabile anche in questa circostanza, Pescara in 10 uomini, sarà munito anche Auteri per la protesta l'indirizzo del direttore di gara Gualtieri di Asti, dunque ultimi 15-20 minuti in inferiorità numerica c'è questo cambio gioco di Cancellotti che mette in difficoltà Drudi, poi Arrighini il cross in mezzo e la volée di Radrezza, forse la deviazione di Gerardi, Reggiana 2, Pescara 0 minuto 79 nel corso di questa partita, insomma cambio di gioco davvero inopinato da parte di Cancellotti l'anticipo di Arrighini è entrato in corso d'opera, una delle sostituzioni operate dal tecnico Diana palla in mezzo e l'acrobazia di Radrezza con la palla che forse è stata deviata da Gerardi dunque il raddoppio della Reggiana che di fatto chiude i conti, poi ci sarà una reazione del Pescara con un colpo di testa di Gerardi parato, respinto dal portiere Venturi, intanto rivediamo ancora l'azione del raddoppio, ecco l'azione a cui mi riferivo, il corner di Pontisso, colpo di testa di Gerardi la palla viene rispita del stavo difensore Emiliano, poi ancora Gerardi che prova a concludere a terra, non si fa sorprendere all'altezza dell'area piccola il portiere della Reggiana Venturi, siamo al novantatresimo, tre minuti di recupero concessi al direttore di gara Gualtieri di Asti era la gara della verità, Pescara sonoramente bocciato, Reggiana batte Pescara 2-0